Buongiorno da Edo, qualche giorno fa ho visto il video di Roberto Mercadini, che è uno dei miei divulgatori preferiti qua su YouTube, che parla di Ada Lovelace e di Margaret Hamilton. Questo video si intitola L'informatica è donna, che naturalmente serve anche un po' a provocare, no? A cercare di sovvertire gli stereotipi di genere che bene si inserisce nel dibattito, diciamo, di questi giorni. Comunque, in questo video lui racconta appunto la storia di come Ada Lovelace è arrivato a scrivere il primo algoritmo della storia dell'informatica, quello che viene considerato tale, e di come Margaret Hamilton ha guidato il team che ha scritto il software per gestire l'allunaggio dell'Apollo 11. E comunque vi consiglio di andarvelo a sentire perché è molto carino, molto ben fatto, molto interessante. Allora, su Ada Lovelace, che è uno dei personaggi per me proprio fondamentali della storia dell'informatica, ma non solo per me, ma delle volte temo che sia un po' sottostimato il suo impatto, no? Perché parlando delle note di Lovelace al paper di Menabrea, a volte magari può sembrare che lei abbia scritto qualche appunto marginale. Invece in realtà, a parte che il corpus di queste note è lungo tre volte tanto rispetto al paper di Menabrea, ma questo algoritmo, che per inciso serve a calcolare i numeri di Bernoulli appunto sulla macchina analitica di Charles Babbage, è molto più complesso rispetto alle piccole operazioni che sia Babbage che Menabrea avevano scritto nei loro trattati sulla macchina analitica. E di fatto è l'operazione più complessa scritta fino a quel momento, quindi a ben diritto è considerato un programma. E in questo algoritmo lei appunto utilizza delle variabili, così come le intendeva Babbage, le quattro operazioni fondamentali e vari passaggi con cui poi arriva la formulazione di un programma che possa andare ad eseguire questo calcolo. Peraltro mettendo in nota che alcuni gruppi di operazioni poi andavano rieseguiti, quindi praticamente creando dei cicli while. Ora, faccio tutto questo inciso perché vorrei aggiungere, mi permetto, al video di Mercadini, due curiosità, due fatti diciamo storici che vengono poco menzionati magari e che sono interessanti secondo me. Il primo è che in questo algoritmo, nell'algoritmo di Lovelace, c'è un bug. Cioè effettivamente c'è il primo bug vero della storia dell'informatica. Voi pensate che il primo software considerato tale nella storia dell'informatica contiene già un bug. Quindi è impossibile che un software non contenga un bug. Comunque, a parte le battute, questo algoritmo è stato poi ricreato in vari linguaggi di programmazione moderni ed eseguito e eseguendo ci si è resi conto che alla quarta o quinta operazione, non mi ricordo, una delle operazioni è invertita. Cioè c'è una divisione tra due variabili e questa divisione andava scritta diversamente. Andavano invertiti, quoziente e divisore. Questo probabilmente è un errore di trascrizione di Ada Lovelace. Pensate che poi lei non poteva effettivamente eseguire questo algoritmo perché la macchina analitica non esiste e non esisteva all'epoca. E quindi insomma, ricreandolo ci si è accorti di questo bug. E questa è anche una nota curiosa. La seconda cosa è che lei scrisse questo algoritmo nel 1842. Ebbene la definizione formale di algoritmo è arrivata soltanto quasi 100 anni dopo. Cioè nel 1936, quando due matematici diedero indipendentemente delle definizioni formali di algoritmo. Uno era Alonzo Church con il lambda calcolo e l'altro era Alan Turing con la macchina di Turing. Peraltro poi Turing si accorse che lambda calcolo e macchina di Turing erano equivalenti in termini di definizioni formali. Poi i due studiarono insieme a Princeton, anzi in realtà Turing studiò sotto Church a Princeton per quanto uno possa insegnare qualcosa a Alan Turing. Ma comunque studiarono insieme e poi scrissero le tesi di Church-Turing dove si definisce che qualunque algoritmo può essere eseguito dalla macchina universale di Turing. Quindi insomma per dire che la definizione formale di questa parola, di algoritmo, è stata data soltanto quasi 100 anni dopo che Lovelace scrisse il primo. In realtà non è neanche una definizione formale, nel senso che non c'è una definizione matematica di algoritmo. È una definizione più che altro intuitiva, leggendo le sue notazioni, le sue implementazioni, ecco come può essere il lambda calcolo o la macchina di Turing. Ecco, si va a definire che cos'è l'algoritmo, però non esiste una definizione matematica di questo. E queste erano le due curiosità, diciamo i due fatti che volevo aggiungere al video di mercatini che comunque resta interessante, quindi vi consiglio di vederlo. E adesso vi do qualche notizina di oggi, non è una giornata di grandi notizie, però ve le butto lì qua. Allora, la prima notizia di oggi riguarda Nvidia, riguarda una causa legale intentata contro Nvidia per aver rubato dei segreti aziendali, del codice in questo caso. La compagnia che ha accusato Nvidia si chiama Valeo, o Valeo, non ho controllato, è una compagnia francese di Automotive. Che succede? Insomma, secondo queste accuse di Valeo, un dipendente di Nvidia che si chiama Mohamed Monirouzaman, che è appunto engineer Nvidia, che prima lavorava in Valeo, ha fatto vedere durante una call dove erano presenti sia dipendenti di Valeo che dipendenti di Nvidia, ha fatto uno screen sharing, insomma, e ha fatto vedere del codice. E quei dipendenti di Valeo si sono accordi che quel codice era il codice della loro azienda, di proprietà della loro azienda, che quindi era presente nel computer di un dipendente di Nvidia. E qual è qui il punto? Perché i dipendenti erano così attenti? Perché Monirouzaman era un dipendente di Valeo prima di passare a Nvidia. E quindi, insomma, diciamo che si è portato dietro qualche segretino dell'azienda. Quindi, proseguo quest'articolo che ho trovato su Engadget. Valeo e Nvidia stanno lavorando insieme per questo sistema per gestire il parcheggio assistito. E Valeo, prima, nel 2021, diciamo, era in... stava guidando lo sviluppo di questo strumento, sia lato software che lato hardware. E però, a un certo punto, nel 2021, Nvidia prende a guidare tutto questo progetto. Ecco, prende su il contratto, vince il contratto per sviluppare tutto questo progetto. E Valeo si accorge, in realtà, che è stato a causa del passaggio del suo dipendente da Valeo a Nvidia. Che Nvidia ha potuto avere accesso a un'accelerazione così clamorosa delle sue capacità. Infatti, si dice in questa causa che Moni Ruzzaman, quando lavorava in Valeo, diede accesso alla sua email a tutti i sistemi, insomma, dell'azienda e rubò decine di migliaia di file e 6 giga di codice sorgente. Che qua, tra l'altro, vorrei anche far notare... 6 giga? 6 giga di codice sorgente? Ma che roba è? Un mostro gigantesco? 6 giga di codice sorgente. Insomma, a quel punto, dopo pochi mesi, lascia Valeo e va a lavorare in Nvidia, lavorando allo stesso progetto in cui lavorava in Valeo. Quindi, insomma, si è portato con sé queste informazioni e questo codice che ha rubato, si è andato in Nvidia e Nvidia, giustamente, ha trovato un bel po' di valore in queste informazioni. Infatti, Valeo stesso dice che Nvidia ha potuto risparmiare milioni di dollari, forse centinaia di milioni di dollari, nello sviluppo di questo software. Insomma, questo l'ho trovato una cosa abbastanza curiosa e interessante, tra l'altro non è la prima volta che succede, ci sono già stati altri casi di passaggi di dipendenti da un'azienda all'altra, che si portano dietro qualche informazione extra che non dovrebbero portare. Quindi, insomma, due cose da imparare da questa vicenda. Prima di tutto, di stare attenti a quello che i dipendenti si portano via una volta che lasciano le aziende, questo è molto importante. E l'altra cosa, forse ancora più importante, occhio quando fate il screen sharing, che insomma non ci siano dei pezzettini di codice che non si dovrebbero vedere nel vostro schermo. Forse questo è ancora più importante, se fate una cosa, almeno fatela bene. Oh, poi qua c'è da annunciare l'uscita di una nuova versione di PHP, perché parliamo poco del back-end, no? Il back-end, si parla sempre di front-end, si parla sempre di JavaScript, invece parliamo un pochino di back-end. Tra l'altro uno dei miei vecchi cavalli di battaglia, PHP. PHP ha rilasciato la versione 8.3. Ci sono cose interessanti da vedere? Sì, qualcosa c'è. 8.3 è naturalmente una minor, però PHP non è che abbia un ciclo di sviluppo, non è che rilascia una major ogni due mesi. Le minor sono importanti, contengono un po' di novità succose. E vi faccio un piccolo excursus su alcune delle novità di PHP 8.3, anche perché possiate capire che PHP è un linguaggio vivo e attivo più che mai. Lotta insieme a noi, non è una cosa vecchia e abbandonata, ma invece è totalmente moderna e continuamente aggiornata. Allora, alcune delle novità di questa release 8.3. Intanto, PHP prosegue nella sua opera di tipizzazione, se non lo sapevate, PHP è un linguaggio tipizzato, o quantomeno sta introducendo sempre di più i tipi nel linguaggio. E appunto, una delle ultime introduzioni, uscita con la 8.3, è che le costanti nelle classi ora possono essere tipizzate. Appunto, quindi se voi definite un'interfaccia con una costante, prima la costante veniva tipizzata in modo dinamico a seconda del suo valore, mentre adesso può essere tipizzata in maniera proprio esplicita. Quindi definendo const poi il tipo e poi il nome della costante, ecco, questo viene tipizzato. Quindi, per esempio, const string, come c'è qua nell'esempio, ecco, questo diventa una costante tipizzata. Sempre sulle costanti c'è una piccola miglioria, che però può essere ben accolta da chi programa in PHP, e ciò è il fatto che ora ci si può riferire alle costanti delle classi, non più utilizzando la funzione constant, ma direttamente usando una delle tipiche notazioni di PHP, cioè due punti, due punti, per chi è familiare, ecco. Quindi si può accedere a una costante di una classe direttamente con il nome della classe, due punti, due punti, e poi il nome della costante, e si prende direttamente il valore senza dover passare per la funzione constant. E poi l'ultima cosa abbastanza importante, poi ce ne sono altre un pochino più piccoline, però questa è interessante, c'è un attributo override, un attributo che si scrive cancelletto, poi parentesi quadra override. Un po' forse complicato, però serve per dare appunto evidenza all'interprete che qui c'è una notazione che serve a lui e non un commento. Ecco, con questo attributo si può dichiarare esplicitamente che il metodo di una classe sta sovrascrivendo un metodo parent. Sapete che voi nel linguaggio oggetti potete estendere una classe, quindi per esempio in PHP in questo caso dichiarate che una classe estende con la notazione extends un'altra classe, sulla classe che estende voi potete anche sovrascrivere i metodi. Quindi date al metodo, come si fa a sovrascrivere un metodo? Date al metodo lo stesso nome, dandogli lo stesso nome e poi potete scrivere il corpo del vostro metodo e questo viene sovrascritto nella vostra nuova classe. Qual è il problema? Che se vi sbagliate nella scrittura del nome di questo metodo, di questa funzione, magari fate un typo, non ve ne accorgete, ecco che non state più sovrascrivendo un metodo, ma ne state creando uno nuovo. Molte volte questo può essere un problema. Voi magari volete fare enforcing e volete dichiarare esplicitamente che questo metodo sta sovrascrivendo un metodo parent, perché così l'interprete, se avete fatto un typo, si accorge e vi dice, ehi ma voi non state sovrascrivendo niente, questo metodo non esiste. Quindi con la notazione override, con l'attributo override scritto appunto sopra il metodo che sovrascrivete, il compilatore, nel caso non esista un metodo di ugualnome nella classe parent, vi dà un errore. Quindi è una cosa conveniente in molti casi, quando voi estendete una classe e quindi un'aggiunta gradita al linguaggio, insomma, che non farà altro che semplificarlo. Ci sono altre piccole novità, vi consiglio di andarvele a vedere, sono sul sito ufficiale di PHP, alla news del rilascio di PHP 8.3. In conclusione due cose molto veloci, più che altro andatevele a vedere se vi interessano un po' di più. Ecco, su Foronix ho trovato l'annuncio del rilascio della versione 1.0 di Pipewire, finalmente, insomma dopo un po' di anni, Pipewire è in versione 1.0, in versione stable, non ci sono grosse differenze tra questa versione e la 0.3, sono completamente le stesse API e EBI, insomma, però è importante per far notare come Pipewire ora sia un sistema maturo e soprattutto adottato da un sacco di distribuzioni. Non l'ho detto, ma immagino ormai che sia di pubblico dominio il fatto che Pipewire sia la scelta di riferimento per una distribuzione Linux per gestire l'audio e il stream video. Ecco, quindi Pipewire 1.0 rilasciato, stabile, e questo l'ho trovato su Foronix. L'ultima cosa, c'è uno statement di Debian, della Debian Foundation, sul CRA, sul Cyber Resilience Act. Ne abbiamo parlato varie volte qua sul canale. Ora non ci sono per adesso sviluppi sul Cyber Resilience Act, ma c'è questo statement della Debian Foundation che si aggiunge a tutte le varie voci del mondo open source critiche proprio nei confronti di alcuni provvedimenti del Cyber Resilience Act, in particolare quello riguardo all'imposizione di certe regole che potrebbero mettere a rischio il mercato open source. Questo statement, insomma, vi consiglio di nevelo leggere per intero, vi cito solo alcuni passaggi, ecco, dice il progetto Debian crede che ci siano gravi problemi per il free software, ecco, nei confronti del Cyber Resilience Act. Per esempio, mettere dei requirement così gravosi sui progetti open source potrebbero rendere legalmente pericoloso, ecco, per alcuni ridistribuire questi lavori in open source e inoltre capire, sapere se un progetto è commerciale o non è commerciale non è fattibile, non è fattibile in Debian e non è fattibile in molti progetti open source. Se non vi ricordate, una delle cose più dibattute del Cyber Resilience Act è il fatto che contiene appunto una distinzione o quantomeno si riferisce al software commerciale senza darne una definizione formale. Il problema è che non esiste una definizione formale di software commerciale, potrebbe essere qualunque software che in qualche modo raccoglie dei fondi, non solo viene venduto e quindi questo è abbastanza indicativo. Inoltre, ci possono essere dei progetti che interrompono il loro sviluppo proprio per paura di quello che può succedere con il Cyber Resilience Act e quindi la sicurezza totale del sistema può peggiorare invece che migliorare dopo questo intervento. Insomma, io consiglio di andare a leggere anche perché sono note ulteriori in una vicenda che si continua ad espandere. Questa è solo l'ultima delle voci, diciamo che si è aggiunta, però ce ne sono varie altre. Speriamo almeno che i legislatori europei prendano in considerazione queste voci che sono voci autorevoli, non sono soltanto io che mi batto qua su un piccolo podcast. E direi che questo piccolo podcast nell'episodio di oggi è anche giunto alla sua conclusione. Domani non ci saremo perché ci sarà Continuous Delivery, quindi sono a Milano negli studioli di Continuous Delivery a registrare una puntata che parlerà di Agile, perché sapete che Agile ha 22 anni. Vi sentite vecchi? Io un po' sì, 22 anni di Agile. Facciamo un po' una retrospettiva per rimanere in tema. Parliamo un po' di che cosa ha portato questo ventennio. Ecco, il ventennio mi pare una bella parola da usare in questo periodo di Agile. Ne parleremo con Paolo Pustorino che è ormai un decano di questa metodologia. Basta, ho finito qua. Noi ci vediamo forse mercoledì e se no, che ne so, un'altra volta. Grazie, fate bravi, alla prossima. Ciao.